Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove faremo vedere un'altra fucile di un'altra nostra amica e di una fondatrice del Club de Softair. Allora, fucile è una K47, guarda pure, qui, e adesso la tiriamo fuori. Allora, ci abbiamo il pomello o manico da mettere davanti al fucile, il caricatore, poi anche altri, e il fucile in sé. Montiamo tutto, ci siamo tornati, abbiamo messo il caricatore, dopo c'è una prova di tiro. E allora, montata è così, è abbastanza bella da usare tutto. Mirino, questo qui, allora, è divisa da carcere, spegni fiamma, ale non si regola, non è rosso, vabbè, vabbè. E un giall, vabbè, come ho già detto, mirino, caricatore, grilletto, modalità di fuoco, è sicura, e qua ce lo porta. E' un bel fucile, sì, lui, non è pesantissimo, e è buono da usare, c'è anche lei che è una ragazza, può usarlo. E qui dentro, secondo, tutto sotto controllo, ci abbiamo il cavo per attaccare la batteria. In questo caso abbiamo due batterie, 12A e sono 6.2V, una o 8.2V l'altra, non mi ricordo. L'attacchiamo e vediamo se spara. Ok, penso che vale. Ok, facciamo due prove di tiro. Facciamo un po' di colpi così singoli e un po' di colpi raffiche. Ok, è andato abbastanza bene, qualche colpo fuori, però un po' li ho messi dentro. Dai, tutto sommato non è male. Adesso facciamo una raffica. E dai, un po' colpi in basso, un po' in alto, un po' ancora al centro, però tutto sommato è andato al bene. Il fucile è questo, la proprietaria venga qui, la proprietaria è lei, ne ha un altro che non è qua purtroppo. E ci vediamo al prossimo video.